Fascismo è un termine oggi dilagante, manipolato, usato proprio per finalità improprie. Ne parliamo con due ospiti. Oggi abbiamo Paolo Borgognone e Gabriele Sannino assieme. Benvenuto Paolo Borgognone. Grazie, grazie per l'invito e una buona sera a tutti coloro che ci ascoltano. Storico scrittore, autore, lo ripeto ormai i nostri ascoltatori che lo sappiano a memoria perché abbiamo l'appuntamento quindicinale, ma abbiamo l'appuntamento settimanale invece con Gabriele Sannino e quindi anche lui volto ben conosciuto al vaso di Pandora, giornalista, scrittore e blogger. Ricordo il canale YouTube, il canale Rumble di Gabriele a cui vi invito a tutti a iscrivervi. Il canale si chiama Quello che i media non dicono. Gabriele, ben ritrovato. Ciao Carlo, buonasera a tutti voi. Lunedì prossimo, lunedì 10 maggio, abbiamo il nuovo appuntamento con la diretta YouTube con le domande dei nostri ascoltatori, con le vostre domande. Saranno ospiti Cosimo Massaro, giornalista, scrittore, blogger su tematiche economiche e politiche. Ricordo il suo ultimo libro, uscito da poco, Scontro Globale. La battaglia terrene, la battaglia spirituale e avremo ospite assieme a Cosimo Massaro, Massimo Viglione, accademico, storico della filosofia e saggista, esperto di tematiche legate alla Chiesa e al Cattolicesimo. Quindi lunedì prossimo alle 20.30. Allora, Gabriele, abbiamo detto appunto fascismo. Possiamo parlare oggi di fascismo psicologico? Assolutamente sì, Carlo, perché potremmo parlare di fascismo psicologico come di totalitarismo psicologico, perché comunque alla fine il fascismo come il nazismo sono forme di totalitarismo. Nella puntata precedente ne abbiamo parlato di rimbambimento di massa, e tutto è collegato, anche questo tema si ricollega al rimbambimento, perché il fascismo produce anche un po' rimbambimento di massa, tramite sempre la paura. Tutto in realtà è falso e manipolato in questo sistema. Del resto, se vogliamo controllare, se il sistema vuole controllare miliardi di persone, non può più farlo con i carri armati e con i soldati per strada, come ha fatto in passato. È stato un approccio perdente quello, che è già fallito nella storia, è sempre fallito nella storia. Ecco perché hai bisogno, orwellianamente parlando, di impaurire e, scusate il termine, proprio rincoglionire le masse. Quindi ecco perché, torniamo al discorso del rimbambimento, e lo fai attraverso la televisione, l'abbiamo detto diverse volte. E hai bisogno, questo è già stato detto, anche questo, del solito divide e timpera. Il fascismo psicologico è, a mio avviso, proprio un colpo di stato mentale che viene fatto alla popolazione proprio per asservirla, asservirla all'interno di una narrazione che è apparentemente coerente, apparentemente logica, ma in realtà è soltanto basata sulla vibrazione della paura. Bisogna far credere ai manipolati ciò che i manipolatori vogliono che si creda, è questo il discorso, quindi mai uscire dalle colonne d'Ercole è quello che fanno questi mass media, che non spiegano niente al di fuori di un certo limite. E teniamo presente che comunque il sistema deve fare questo anche perché ha paura delle masse, perché noi siamo ancora troppi da controllare. Ecco perché il depopolamento, affrontato in un'altra puntata, anche questo è un tema congeniale. E la paura costante, tra l'altro, inoculata, Carlo, giorno dopo giorno, porta a questo fascismo psicologico, ma porta a un uomo isolato che è più facilmente controllabile, perché si ha attraverso la paura costante la fine della socialità, la fine della fiducia, la fine della cooperazione, la fine dei rapporti umani, e quest'uomo confuso, sfiduciato, eccetera, è il prodotto perfetto di questo fascismo psicologico. Un'altra prova di questo, e l'abbiamo avuto anche prima di questa pandemia, tra virgolette, attraverso il crimine. Perché si spettacolarizza il crimine? In una società violenta come questa è normale che ci sia crimine, no? Perché si spettacolarizza? Perché il crimine, in qualche modo, porta la gente a volere più sicurezza, quindi più telecamere, più controlli, più questo, e quindi abitua l'individuo a questo. A volerlo proprio. A volerlo. Addirittura a volerlo. Esatto. Certo. Chiarissima la disamina. Paolo, Paolo Borgognone, senti, la cosa è il fascismo? Adesso è etichettato il fascismo, tutto ciò che non è conforme al pensiero unico imposto dai media? Ma infatti io non definirei fascismo il regime attuale, il regime in cui viviamo, io lo definirei regime di liberalismo reale. Quando abbiamo a che fare con personaggi della politica, del mainstream giornalistico, accademico, attenzione, accademico, televisivo, mainstream, sanitario, anche tutti costoro si definiscono immancabilmente liberali. ma tutti, eh, da Draghi fino a Crisanti, passando per la Gruber, per Floris, per Mentana, per tutto, tutto, Scanzi, Travaglio, tutto il mainstream riunito, a prescindere dalle loro specificità professionali, si definiscono liberali. E io gli credo. Io prendo per buona la loro definizione, la loro autodefinizione soggettiva. Do atto che sono quello che dicono di essere. Allora, qui siamo nel liberalismo reale. Qual è lo scopo politico, e poi vediamo anche psicologico, ovviamente, sono collegati del liberalismo reale e di questa società dello spettacolo liberale che diventa di fatto onnipresente, pervasiva, e che occupa tutti gli spazi del dibattito pubblico, del dibattito anche privato. Lo scopo è proprio quello di arrivare all'egemonia e al dominio, anche all'egemonia per molti aspetti, totale di ogni tipo di immaginario pubblico. Le grammatiche esistenziali devono essere ricolonizzate, riformulate, in una prospettiva in cui l'interesse privato, l'egoismo, il confinamento, l'uomo ridotto a monade, l'uomo monade, l'uomo arcipelago, la società arcipelago, l'uomo solo, isolato, con le sue paure, i suoi dilemmi, la sua ignoranza, i suoi drammi esistenziali, la sua impotenza, e tutto quel che ne consegue, la sua paura, e dunque anche il suo spaesamento, diventano centrali, la società va divisa. Gabriele diceva giustamente, divide e timpera, certo, distruggere le comunità, divide e timpera è la prima formula, per il primo dispositivo di controllo sociale, mettere ad esempio, quale sarà il prossimo obiettivo di chi divide e timpera? Mettere i vaccinati contro i non vaccinati, dire che un non vaccinato non può più sposarsi, e dunque il fidanzato, il fidanzato che ha ricevuto il vaccino, dovrà o lasciare il compagno o compagna non vaccinato, o persuaderla a vaccinarsi, o litigare. O trovarsene un vaccinato. Ecco, si disincentiveranno i rapporti sociali, i rapporti proprio di prossimità, il sesso, l'amore, la vicinanza nel posto di lavoro, dunque i compagni di lavoro, le amicizie stesse, gli incontri nei luoghi pubblici, nei locali, tra persone vaccinate e non vaccinate, dunque si arriverà a una guerra, ovviamente nei ceti medio-bassi, tra vaccinati e non vaccinati. Questo è uno degli aspetti del divide-timpera. Due, secondo formula per dispositivo di manipolazione, la distrazione. Bisogna distrarre, bisogna cercare continuamente di spostare il dibattito pubblico su temi secondari, su temi che rincorrono una rissa continua, un lessico banalizzato, la cui funzione sociale, la funzione mediatica, è quello appunto di confondere, di depistare e di inquinare le acque. Però lasciando tutti i temi centrali nell'ambito della marginalità, ma non è importante, ma non dobbiamo parlare di tutto questo, l'importante oggi è capire, ad esempio nella narrazione attuale, quali sono le cifre di un bollettino quotidiano che non dice nulla, ma che viene oggi elevato come nuovo totem e lo spread dei giorni nostri, eccetera. Tutto questo porta a forme di divisione sociale che saranno certificate anche per via burocratica. Quello che io ho definito il Green Pass Rosso Sangue, dopo vi posso spiegare perché ho definito questo Green Pass Rosso Sangue. Spiegacelo pure, già Paolo. Perché è fondato su migliaia di morti, su decine di migliaia di morti, curati con protocolli sbagliati o non curati. Se tu vuoi arrivare al Green Pass, se tu vuoi arrivare a costringere le persone o a indurre le persone ad avere un certificato per potersi spostare di regione in regione, di provincia in provincia, a seconda delle colorazioni che verranno date alle regioni, o per accedere ai locali pubblici o ai servizi pubblici, beh, ma devi colpevolizzarli, devi farli sentire appunto in colpa, devi alimentare in loro il rimorso, un lutto interiore, una responsabilità per questo lutto. Devi dire, è colpa vostra che siete stati irresponsabili, che siete usciti, che non avete indossato i dispositivi di protezione individuale, che avete fatto i furbi, che non avete rispettato il coprifuoco. Ecco perché siamo ridotti a questo punto. In realtà, 15 mesi di protocolli basati su tachipirine e vigilattese, è chiaro che hanno spostato in avanti l'asticella delle sofferenze e delle morti. Sono il primo a dirlo. E allora ecco che il Green Pass, rosso sangue, affondato nel sangue di queste morti, che vengono illegittimamente imputate a colori quali non hanno, tra virgolette, rispettato le regole, mentre sarebbero da imputare a chi non ha curato adeguatamente e chi ancora oggi prescrive protocolli e suggerisce protocolli inefficaci e sbagliati, ecco il Green Pass diventa lo strumento, il certificato burocratico non solo di asservimento, non solo di adesione, ma anche di controllo sociale fondato su una colpevolizzazione di massa. Chiaro. Tra l'altro Draghi ha già parlato del Pass anche per poter andare in vacanza quest'estate, quindi penso che avrà anche terreno piuttosto fertile nella portare avanti il progetto. Senti Gabriele, poi tra l'altro vi invito se volete, anzi, vi invito proprio a intervenire eventualmente su dei passaggi che intendete magari riprendere da parte dell'altro ospite. Senti Gabriele, quali sono i diversivi del fascismo psicologico? Detti così, proprio schematicamente in modo che vengono individuati facilmente. Certo, allora intanto mi ricollego a quello che ha detto Paolo, è verissimo che loro parlano, questo è un totalitarismo democratico, tra virgolette, perché loro dicono che sono democratici, è tutto orwelliano, è tutto capovolto, in realtà sono dei dittatori ma devono vendertela come la democrazia più buona del mondo che si occupa della tua salute e che vuole soltanto il tuo bene e che per questo fa tutto quello che sta facendo. È il totalitarismo è il totalitarismo delle comodità tutto sommato, tecnologico delle comodità, cioè si puntano molto sulle comodità della tecnologia per farci digerire direi queste forme di totalitarismo, no? Sì, poi Orwell questo lo insegnava bene, cioè non c'è bontà in quel regime, c'è buonismo che è diverso, sono due cose molto diverse, Orwell già diceva queste cose qua, ad ogni modo questo totalitarismo è ovunque come appunto già accennava Paolo e nei media che si occupano di questioni rilevanti perché continuamente distraggono, la distrazione abbiamo detto noi anche altre volte è continua e serve a instupidire anche, ma anche nella scuola che ormai ha perso ogni cioè ogni punto di riferimento soprattutto nell'economia, nella storia, nella spiritualità, cioè il divertimento, il divertimento che serve a produrre mediocrità, ancora una volta i giovani ancora adesso pensano in questa società orwelliana che il divertimento sia la perdita del controllo quando invece il divertimento è esattamente l'opposto è la presenza a se stessi è la lucidità mentale che ti permette poi di viverti anche quel momento il qui ed ora in modo consapevole cioè è tutto sbagliato è tutto capovolto in questa società che si definisce anche democratica i diversivi sono tantissimi e sono principalmente dati dai media oggi ci occupiamo di biancaneve domani ci occupiamo dei settenani e via dicendo insomma ma i diversivi sono anche i confini mentali che il popolino non deve assolutamente superare perché per esempio se tu dici sei contro l'immigrazione incontrollata sei razzista cioè l'80% delle persone reagisce ancora in questo modo condizionato cioè proprio una reazione immediata questo perché? perché sono dei robot comandati oppure tu dici che le banche sono in mano ai sionisti non dici neanche ebrei sionisti a parte che non sanno la differenza tra sionisti ed ebrei ma dici guarda che le banche sono in mano ai sionisti loro ti dicono ah sei antisemita sono reazioni condizionate create da una dittatura che si spaccia per democrazia e badate che chi è nei media giornalisti ma anche anchorman eccetera a meno che non siano figure apicali cioè queste persone sono anch'esse dei conformisti e programmati dal sistema non è che tutti quelli che stanno in televisione sanno tutto del complotto in atto sanno tutto dei poteri forti cioè sono proprio sono proprio ignoranti anche loro io ho parlato con giornalisti con politici anche anche i politici non apicali non sanno niente li stiamo sopravvalutando in un certo senso assolutamente se chiediamo Carlo a molti giornalisti o politici che cosa sanno in concreto per esempio del gruppo Bilderberg del consiglio delle relazioni estere della commissione trilaterale cioè ti guardano stupiti al massimo te ne parlano bene perché hanno sentito che ha fatto un bell'incontro in una bella location cioè quindi capiamo anche l'ignoranza di queste figure che è funzionale al sistema e sono gli utili idioti del sistema solo figure apicali vengono cooptate per portare avanti questa narrativa di ignoranza questo è molto importante secondo me sottolinearlo certo senti Paolo perché la tv è diventato il più grande strumento di manipolazione perché la tv manipola sicuramente ma fino a un certo punto trova anche terreno fertile nei manipolati semina un terreno ricettivo sensibile quindi Paolo siamo ovviamente il sistema mediatico sta svolgendo un compito veramente terrificante ma in qualche modo possiamo dire noi siamo comunque co-creatori di questo sistema siamo in parte ricettivi e in parte abbiamo una una nostra cattiva coscienza una nostra falsa coscienza che poi si deve deve trovare un lavacro nel politicamente corretto qual è la la falsa coscienza del e la cattiva coscienza del del popolino basso e losco ma la vediamo tutti i giorni questi sono coloro i quali si definiscono a loro volta contrarissimi a qualunque forma di dittatura se tu ne ne parli anzi sono i più democratici del mondo a parole e poi vanno in giro a fare i delatori a fotografare nei parchi le persone che magari si stanno facendo una domenica pomeriggio all'aria aperta e poi schiaffano la foto su facebook su questi profili che raccolgono queste segnalazioni e scrivono nel parco c'è troppa gente in giro e arrivino e chiamano i vigili urbani e questa è il popolino basse l'osco uno degli aspetti più deludenti direi più deludenti no io me le aspettavo queste cose io me le aspettavo perché le epidemie i momenti di crisi della coscienza anche dovuti appunto a fenomeni naturali come catastrofi terremoti piuttosto che epidemie eccetera alimentano psicosi collettive e forme di isterismo di delazione e di guerra tra gli ultimi di guerra tra poveri come ho detto l'espressione una delle espressione perché poi non c'è mai fine a questo percorso di involuzione di regressione dell'intelligenza umana della capacità di mettersi in relazione l'un l'altro guardando il prossimo come un tuo simile una delle fasi ulteriori sarà appunto la divisione sociale tra possessori di green pass e non possessori di green pass perché veramente si arriverà a una società divisa su questi su queste linee di faglia il problema è che il 90% avrà il green pass o cederà al ricatto perché se gli diranno non puoi più andare al ristorante se non hai il green pass e questi si fanno il vaccino piuttosto che farsi il tampone due giorni prima di andare al ristorante eccetera e quelli che invece cercheranno di resistere al ricatto io mi auguro che siano tanti per molti aspetti so che saranno tanti ma saranno comunque una minoranza io cerco di avere fiducia in una parte non tutta una parte delle nuove generazioni a cui occorrerà anche cercare di spiegare che è più rischioso per loro sottoporsi alla somministrazione di un farmaco sperimentale piuttosto che ammalarsi o infettarsi con un virus che per loro è quasi inoffensivo o nella peggiore delle ipotesi provocherebbe un'influenza però anche in questo caso anche in questo caso sono così scettico perché penso che alla fine il ricatto abbia una sua forza psicologica soprattutto perché perché manca nel paese un'opposizione sociale politica manca un collettore di comunità concrete che possa fare argine nei confronti di questi ricattatori e di questi dittatori del pensiero di questi dittatori della prassi tutto questo per ora manca occorrerebbe organizzarlo ci sono movimenti ci sono partiti ci sono associazioni realtà culturali che si stanno muovendo meritoriamente su questa su questo terreno però sono ancora sostanzialmente deboli rispetto a quello che è lo strapotere del mainstream politico un mainstream politico giornalistico che si sta muovendo in maniera completamente irrazionale perché mi si spieghi come mai in piazza Duomo a festeggiare l'Inter al di là che sia l'Inter dico anche un'altra squadra il virus non c'era quel giorno e poi se tu 30.000 persone in piazza del Duomo a Milano e i media hanno abbozzato il virus non c'era ma è già successo anche a Napoli tra l'altro non è interista però questo rende illegittimo tutto lo schema di sorveglianza di restrizioni e tutta la pletora dei decreti e delle restrizioni poste in essere perché se io vengo beccato sotto casa alle 22.45 e mi fanno 400 euro di multa ebbene ma io potrò dire al poliziotto o al carabiniere o al vigile che mi combina questa sanzione perché quelli di piazza Duomo non sono stati multati erano in 30.000 c'era un assembramento stavo cercando di fare un calcolo deve essere o per tutti o per nessuno stavo cercando di fare un calcolo di quanto ma non sono in grado adesso perché comunque avrebbe una cifra che è grandissima quanto fa 400 euro per 30.000 persone ma ciò testimoniano l'assurdità testimoniano l'assurdità di questi provvedimenti questi provvedimenti non possono sostanzialmente essere applicati perché il distanziamento fisico è impossibile in realtà dove c'è una concentrazione demografica di persone notevole e non puoi separare le persone una ad una con tre metri cosa fai? Vai lì col metro misuri prendi le misure come i morti è proprio emerge in tutta anche la sua queste misure sono dittatoriali l'aspetto anche comico l'assurdità insomma di queste misure sono misure dittatoriali dunque hanno un senso tragico ma sono anche misure comiche perché poi sono grottesche inapplicabili restano appunto poi ci sono questi paradossi secondo cui 50 persone che manifestano per i diritti costituzionali naturali delle persone gli viene impedita la manifestazione e vengono multati e 30.000 che si radunano per altri motivi vengono tollerati e il presidente della regione Lombardia di fronte a una legge violata dovrebbe essere il primo che eh no la legge violata li andremo a prendere uno per uno dovrebbe dire così invece ci speriamo che non si ripeta lasciamo correre dunque con alcuni si fanno vedere i muscoli e con altri si abbassa la guardia chiarissimo chiarissimo Gabriele Gabriele Sannino esiste un fascismo tecnologico oggi oltre che psicologico certo allora intanto volevo collegarmi a quello che ha detto Paolo prima dicendo che abbiamo da un lato una dittatura evidente no ecco da un lato un popolo sempre più stupido perché parliamoci chiaramente il popolo non va in piazza a reclamare i propri diritti le proprie libertà ma va a tifare una squadra un evento sportivo quindi non va nessuno a chiedere la libertà che è una cosa che accomuna tutti ecco e poi vanno a festeggiare in questo modo quindi ciò ci fa capire il rimbambimento a che punto è arrivato ecco aspettiamo un attimo per non confondere non siamo milanisti perché qui si sta concentrando sì era una battuta diciamo era esperto precisarlo esatto assolutamente prego prego era precisare comunque perché sennò ci accusavano il tifo è sempre un aspetto molto insidioso e quindi praticamente l'uno non potrebbe esistere senza l'altro c'è un popolo ignorante e funzionare nella dittatura più il popolo ignorante più c'è la dittatura sono due cose che si alimentano a vicenda perché un cittadino consapevole scende in piazza invece per i propri diritti e scende in massa per la propria libertà a prescindere da quale sia il pezzo di libertà che è leso in quel momento per quella persona scende per la libertà sua e di tutti e questa questa storia finisce insomma e quindi il punto è questo il punto è che noi siamo tenuti già in questo stato dai mass media e dalla loro pseudo informazione che non è altro che propaganda poi c'è la tecnologia che invece arriva è ancora più invasiva la tecnologia perché la tecnologia tu la tv la vuoi spegnere però il telefonino ce l'hai sempre con te e anche sul telefonino trovi continuamente comunque messaggi del mainstream insomma anche lì il mainstream può arrivare sul telefonino alla propaganda ti arriva sul telefonino ti arriva sul computer di casa se tu non hai fatto un lavoro di risveglio automaticamente quel non risveglio te lo trovi dappertutto in tutte le fonti tecnologiche quindi ti abbevererai a quelle fonti e quindi sarai sostanzialmente insomma uno che non guarda la tv ma comunque si abbeverà a quelle fonti e quindi la pensa in quel determinato modo inconcepibile e razionale quindi la tecnologia in realtà è un'arma a doppio taglio perché ci consente un risveglio di mettere insieme i puntini cosa che facciamo noi ma ci consente anche insomma ma consente anche il contrario per una capillarizzazione di questa propaganda che diviene a quel punto proprio atomistica e ossessiva è quello che sono oggi gli individui oggi abbiamo una società di individui isolati sono dei narcisisti analfabeti per lo più insomma narcisisti analfabeti detti soltanto all'ego e all'analfabetismo prodotto da questo sistema certo chiarissimo senti Paolo cederanno in tanti a quello che sembra un ricatto in queste settimane in questi mesi così per concludere la nostra intervista di oggi cosa ti prefiguri qualcuno cederà ne sono sicuro il fatto è bisogna cercare di spiegare le cose due cose l'irrazionalità dei provvedimenti adottamentati si dice chi non è vaccinato chi non ha un tampone negativo nell'ultime totore o chi non è guarito dal covid ma soprattutto chi non è vaccinato non potrà accedere a determinati locali pubblici nel frattempo poi è chiaro che la gente si farà vaccinare perché piuttosto che andarsi a far fare un tampone ogni giorno farsi triturare il naso o ti vai a prendere il covid appunto vai a farti un giro nel reparto covid ti fai sternutire in faccia da un cavallo allora magari fai il covid poi guarisci allora per sei mesi vai dove vuoi perché questo certificato di adesione a un regime perché questo certificato di adesione a un regime si rinnova ogni sei mesi come la tessera dei partiti nell'epoca del totalitarismo novecentesco e dunque piuttosto che fare quello si faranno vaccinare però ci dicono che i vaccinati vi contagiano per cui ergo io mi faccio vaccinare vado a un ristorante ci siete voi due siete vaccinate anche voi due io vi contagio voi non sviluppate malattie ma vi contagio poi Carlo va a casa io l'ho contagiato al ristorante contagia la sua famiglia suo nonno suo bisnonno va in terapia intensiva e muore il focolaio è nato al ristorante ma rendiamoci conto quali sono i fattori di irrazionalità totali di questo di questo provvedimento due siamo in mano a degli esperti che sono veramente quello che di più così desolante possiamo immaginarci ma come un medico un medico che dovrebbe avere come unica droga tra virgolette lo stare accanto ai suoi pazienti dice che la sua droga è la tv e la telecamera non può più fare a meno di stare davanti alla telecamera e fa a gara con un altro medico che tra l'altro questo qua c'ha 70 anni per vedere chi tra i due piace di più alle donne insomma ma questo non è un ragazzino io capisco facesse prima o seconda media passi uno scappellotto e via così il buffetto da parte del genitore dire ma che cazzo dici ma questo avrà 50 anni questo uomo avrà 50 anni va a dire queste cose in giro e la gente legge legge dice che bravo che bello magari me lo farei pure magari c'è qualcuno che dice me lo farei pure perché a questo punto siamo c'è una complicità enorme tra dominanti e agenti dominati della dominazione quando ci sarà e io lavoro anche perché ci sia presto ce ne sono già ma dobbiamo fare un lavoro ulteriore quando ci sarà in Italia un movimento un fronte del dissenso politico economico sociale psicologico capace di spezzare questa alleanza de facto tra dominanti e agenti dominati della dominazione si riaprirà spazio anche per la democrazia in questo paese fino a quel giorno saremo completamente estranei a qualunque processo e forma di democrazia saremo sottoposti a un regime tirannico saremo sottoposti a un regime tirannico dove i medici e le persone di scienza si presume fanno le star televisive Gabriele volevo sentire per chiudere il cerchio anche il tuo punto di vista su questo sinteticamente quanti cederanno a questa forma di ricatto in qualche modo per poter continuare a fare una vita sociale guardiamoci intorno e insomma vediamo che comunque la maggioranza è assolutamente dedita alle narrative mainstream c'è un c'è un gruppo di dubbiosi e quei dubbiosi loro lo sanno che è un gruppo anche quello consistente e voglio sentire dalla loro parte e c'è una minoranza per fortuna che oramai è troppo insomma è troppo anti e con quella con quella sarà un vero e proprio problema volevo soltanto dire un'ultima cosa precisare un'ultima cosa sul sistema di dominanti che diceva anche Paolo il sistema di dominanti il mainstream si serve dei clown abbiamo detto tante volte i clown che vanno in televisione insomma da tutti i punti di vista vanno a raccontare questa narrative per conto dei dominanti i veri e propri se noi analizziamo quelle che sono le tre emittenti televisive principali degli Stati Uniti che sono NBC la CBS l'ABC noi vediamo che sono i direttori di quelle reti che fanno parte dei potenti dei poteri del mondo finanziario per esempio la NBC ha avuto un direttore della fondazione Rockefeller che era John Brademas quindi era legata alla Rockefeller la ABC ha avuto un direttore della JP Morgan la CBS addirittura della Rothschild cioè quindi è un sistema di porte girevoli che controlla come dire l'apertura della porta di ogni emittente televisiva porta d'ingresso chi può entrare e chi no e chi è che ci metti ci metti il buttafuori e praticamente il direttore di rete buttafuori che risponde a questi poteri questo è molto importante perché poi una volta che si è entrato là dentro poi trovi i clown di tutti i tipi cioè insomma questo è ecco guardate che il popolino basso elosco di cui ho parlato prima somiglia molto a questi dominanti perché oggi la cultura dominante è quella dell'eterna adolescenza e del tentativo di fregare il prossimo tuo cioè se a 50 60 anni tu rilasci dichiarazioni così estemporane così per certi aspetti anche ingenue grottesche ecco e sei un esperto vuol dire che dentro di te sei un eterno adolescente c'è una parte importante di te che è rimasta nella profonda adolescenza e chi di fatto si immedesima in questo tipo di classi dirigenti però queste sono le classi dirigenti attenzione è adolescente uguale a prescindere che abbia 18 anni o che ne abbia 60-70 chiarissimo questo è il problema l'eterna adolescenza il fatto che noi siamo soprattutto la nostra una generazione qua dei quarantenni a cui è stato tolto in passato è stato tolto il futuro nel 2011 è stato tolto il futuro la generazione senza futuro dopo la crisi finanziaria gli era già stato tolto negli anni 90 al passato l'edonismo vivete godetevela finché ce n'è dunque non pensate indietro non siate impegnati disimpegnateli oggi gli viene tolto anche anche il presente una generazione senza presente gli viene tolto anche il presente per avere 15 mesi 6 mesi di vita in più oggi 6 mesi di vita sociale in più dobbiamo avere un pass anche il presente ci hanno tolto questa quindi le assurdità elevate alla normalità della vita della vita quotidiana siamo in chiusura io ringrazio molto Paolo Borgognone Gabriele Salino per questo viaggio questa intervista attraverso la consapevolezza individuale e direi collettiva noi vi stiamo apprezzando tutte le settimane quindi grazie noi ci diamo appuntamento con Paolo fra due settimane e con Gabriele nell'appuntamento del sabato questa settimana saltiamo in realtà e perché abbiamo già fatto un'intervista oggi quindi diamo appuntamento al sabato successivo Paolo Borgognone storico scrittore autore Gabriele Sannino giornalista scrittore blogger ricordo il sito e il canale Rumble quello che i media non dicono grazie grazie a presto ciao a presto grazie grazie